ciao mitici in questo video vediamo i tappi delle macchine fotografiche quelli che si mettono davanti alla lente per proteggerla da urti e chiaramente esistono di varie misure a secondo di qual è la lente e ognuno ha la sua misura questo è il più grande che ho e è per un telo obiettivo e la misura è 95 in realtà ci aveva già il suo tappo canon però io siccome so che mi perdo sempre i tappi o perlomeno non li trovo quando li cerco allora quando me ne serve uno voglio averci almeno due e quindi in questo caso tre no ok non ce l'ho uno solo ok ok quindi questo l'ho comprato perché a volte a secondo di voi lo andate a comprare conviene comprarli magari cinque piuttosto che uno alcune alcune ottiche poi hanno la stessa dimensione questo ad esempio è un 82 ecco qua adesso zoom un attimo ovviamente riusciamo a vedere dove si vede il numero del tappo il numero del tappo di solito è stampato all'interno questo è un 82 vediamo il meccanismo praticamente non ci stanno ulteriori parti in metallo mi sembra che la molla venga fatta semplicemente dalla forma che ha questo tappo magari c'è una mollettina nascosta dentro non lo so comunque è due parti che si stringono e poi quando si riallargano rimangono incastrate nella forma dell'ottica vedete qui ci stanno tutta una serie di dentini e sono due molle separate vedete che se muovo questa non ha niente a che vedere con questa quindi sono due molle separate che però noi andiamo a premere contemporaneamente prendendo da qui o prendendo direttamente dall'esterno ok allora vediamo che questa si capisce che è un'altra ottica non originale 82 assomiglia più o meno a quest'altra che è sempre non originale questa è originale o non originale questa non si può capire facilmente perché perché anche su Aliexpress ti arrivano queste ottiche con scritto sopra Canon e Nikon e quindi tutto contento che ci allontini il tappo con scritto Nikon io ad esempio non ci ho mai avuto niente Nikon quindi è evidente che questa è uno falso ottica col tappo 52 è uno falso che me l'hanno mandato con la scritta Nikon vediamo se riusciamo a occhi e a capire quale potrebbe essere falso allora vedete questo assomiglia molto a questi potrebbe essere falso questo potrebbe essere un falso Canon la plastica non sembra un granché certo il suo lavoro lo fa anche questo è un 82 questo potrebbe essere un falso Canon questo invece mi sembra poco originale la plastica è più bella qui la tramatura è più uniforme e questo probabilmente è un tappo originale 77 vedi pure diciamo che tra le ottiche belle 77 e 82 quelle che sono belle grosse sono i due numeri dei full frame invece magari 58 e 52 eccole qua sono più le ottiche piccoline delle telecamere o quelle che hanno il sensore un po' più piccolo la PSC vedi il tappo 58 Canon questo mi sa che deve essere un tappo originale questo invece evidentemente è un tappo finto cioè finto la funzione la fa e è in 52 vediamo se ci ho fatto l'occhio 52 e questo vediamo se ho fatto l'occhio 77 82 questo è 82 capite? ciao mitici